E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi tornato a portarvi quella che molto probabilmente sarà la sfida di questa settimana riguardo alla stellina da trovare Infatti la sfida della settimana 4 sarà, ce l'ho scritta lì, dovrebbe essere Cerca tra una panchina, un camioncino del gelato ed un elicottero Quello che ho pensato io e che ho riscontrato anche insieme ad altri youtuber americani E che in teoria dovrebbe trovarsi qua vicino a Moistimar, più precisamente mi sembra qua, esattamente qua Adesso ci buttiamo e vi dirò la location giusta per mostrarvi quella che sarà molto probabilmente la sfida di questa settimana qua Ricordo a tutti che ho completato quasi sempre anche tutte le altre sfide Quindi ad esempio questa settimana qua mi sembra che ci sia da cercare le location dei crateri Quindi molto probabilmente ve lo lascerò qua in alto in sovraimpressione E andate a vedervelo Io adesso vi faccio vedere molto molto rapidamente dove sarà la stellina di questa settimana qua E ci becchiamo direttamente lì Ok ragazzuoli, la sfida di questa settimana qua sarà, in teoria dovrebbe essere qua Io essendo una previsione non posso essere sicuro al 100% Comunque nel caso in cui non dovesse essere qua ma qua vicino In teoria molto probabilmente qua Quasi mettete il 95% qua Se non dovesse essere qua cercate nei commenti in sotto Lo lascerò bloccato in alto Vi dirò esattamente dove è Comunque se vi buttate qua troverete altra gente che è venuta qua per la sfida Comunque lo vedrete Dovrebbe essere qua Qua è sicuramente qua Se non lo fosse guardate il commentino E nulla ragazzi Cercate di lasciare un bel like Se siete nuovi iscrivetevi E nulla ragazzi Ci becchiamo al prossimo video commitments Un 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 Un